Il Cagliari perde per 3-1 alla Sardegna Arena contro la Juventus, la prima sconfitta di semplici sulla panchina del Cagliari, però una sconfitta che è arrivata con tante cose buone, soprattutto nella ripresa. Il Cagliari ha giocato molto meglio, forse sfruttando quella che era probabilmente la stanchezza della Juventus, ma anche il fatto che la Juventus forse è andata sul 3-0, ha deciso di tenersi un po' di più. Come si è arrivato quel 3-0 lo sappiamo, a parte il primo gol di Ronaldo c'è l'espulsione, che non commento però l'avete visto nell'apertura e da lì cambia un po' tutto. Ci sono due svirgoloni da parte di Cepitelli che danno via libera alla Juventus per trovare il secondo e il terzo gol e poi Cagliari ci ha provato, ci ha provato in tutti i modi a trovare più di un gol in questa partita, non è stato fortunato, ha saputo anche schiacciare la Juventus, è una cosa abbastanza incredibile, però ripeto, ha dato buoni segnali, segno che la squadra c'è, ha solo bisogno di quel pizzico in più di cattiveria che servirebbe in questo genere di partite. Andiamo ai promossi di questa partita. Il primo è sicuramente, secondo me, Gaston Pereiro, bisogna dirlo, quando è entrato ha saputo mettere veramente in difficoltà la difesa juventina, ha trovato due tiri che per poco non sono entrati in porta, ci ha provato, ha dato buoni spunti, segno che anche lui può dare una buona mano a semplici quando chiamato in causa. Il secondo che mi va di promuovere non è Alfred Duncan, come avrei detto fino a un certo punto della gara, però è sicuramente ancora una volta Razvan Marin, che non è partito bene, come non sono partiti bene le mezzali durante la partita, ma poi nel secondo tempo ha strabordato, è uscito dall'argine, ha recuperato palloni, ha fatto girare la squadra, ha dato più forza, più durezza, anche contro un giocatore, Rabiot, che è molto più possente, molto più alto rispetto a lui. Tra i bocciati invece ci metto, prima di tutto, Luca Cepitelli. Ragazzi, qua siamo a livello di Lico Giannis, diciamocelo chiaramente, due svirgoloni pazzeschi, ma non solo, perché ha fatto una marea di errori, tantissimi errori e non è possibile da parte di un giocatore che non è in Serie A da ieri, è in Serie A da tanto tempo, quindi veramente non è possibile che faccia questo genere di errori. E adesso mi chiedo, se non sia il caso, anche lì, di cambiare un po' la disposizione, perché Rugani e Godin bene o male se la cavano, ma Cepitelli, Klavan, Valukiewicz, sembra che da quella parte proprio non ne abbia. L'altro invece che vado a bocciare è Rajan Engolan. La sua partita è da 5 e mezzo, diciamoci la verità, però nel primo tempo ha sofferto tantissimo, sembra che non sia in forma, sembra che sia in difficoltà fisicamente. Spesso lamenta dei problemi fisici durante la partita e non è neanche lucido a far girare la squadra. Forse è solo un periodo, ma speriamo che si possa riprendere già dalla prossima partita con lo Spezia. Ebbene sì, la prima sconfitta di semplici a Cagliari contro la Juventus, preventivabile sì, però, ripeto, la squadra ha dato la sensazione di poterci provare. È mancata la cattiveria, è mancata la capacità di andare oltre l'ostacolo. E forse, anzi senza il forse, ci è mancato tanto Pavoletti oggi. Sarebbe stata la partita giusta per lui, tanti cross sono passati dritti e se ci fosse stato lui, probabilmente, non lo sappiamo, però probabilmente sarebbero stati colti. Adesso andiamo a sfidare lo Spezia alla prossima partita e lì è decisiva, perché se vai a vincere lì, poi la classifica si mette in maniera differente. E soprattutto vai a risucchiare sia lo Spezia che il Benevento che gioca proprio con la Juventus, che rimette, rimescola un pochino la parte bassa della classifica e rimette Cagliari a contatto con una zona un po' più tranquilla. Arriverebbe magari a 24 punti e a quel punto sarebbe tutto da giocarsela dopo la sosta.